dunque ciao a tutti scusate la voce nuovo video sullo scopriamo insieme le creazioni in resina la verità è che ce ne sono anche delle altre però devo farle in due tempi quindi adesso vabbè iniziamo subito con questi cuori 2 di color questo era bianco e mi è diventato giallo però mi piace lo stesso guardate qua che bell'effetto per lato dietro l'arancio davanti uno e questo dovrebbe dovrebbe avere il blu davanti si questo mi piace sì sì guardate bello bello sì sì b color mi piacciono troppo questa forma mi piace troppo ho intenzione di mettermi a fare anche le cover per cellulare vabbè questa qui ancora non è finita quindi ve la farò vedere finita ho fatto con lo stesso doveva essere bianco ripeto e invece è venuto giallo questi cagnolini ci corollerò i dettagli wow cagnolino suicida ecco qua e poi posterò le fotografie sapete come verrà bella una cover fatta con i cagnolosi vedrò quello che potrò fare metti a fuoco questo che carino questo carino bellissimo questo qui è particolare quest'altro oh che tenero queste pucci farò magari i baffetti di un altro colore gli occhi questo è il chuovino è troppo bellissimo il chuovino è favoloso e questo è il basottino glitterato un cane glitterato solo io potremmo farlo poi passiamo a questa hello kitty che sarà sicuramente opaca però la luciderò però è bella di questo colore mi piace colorerò i dettagli e la luciderò poi scusatevi per il rumore della sedia vediamo questa la resina è in eccesso danni con la resina collaterali guardate guardate che bella è un po' opaca si sta un po' opacizzando lo stampo però è sempre bella poi vediamo questa ci vuole una lucidata però è meravigliosa vediamo il fiocco wow wow meraviglioso questo l'unicorno sempre il mio solito unicorno wow 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 guardate guardate non sapevo che gli stampi di olga shop dopo un po' si opacizzassero però mi piacciono lo stesso insomma merita poi faccio sempre solo questi per il momento però guardate vediamo i due unicorni vediamo se dopo riesco a ecco a decorarli wow 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 vediamo quest'altro che è esattamente uguale stupendo è bellissimo vediamo vediamo per ora è tutto ci vediamo alla prossima ciao